Mi è venuta un'idea oggi riguardo alle biciclette, automobili e il trasporto pubblico riguardo ai tatuaggi. Appena la gente ha visto la bicicletta ha pensato wow figata posso andare in giro con questa roba è piccola occupa poco spazio non fa la cacca non devo spendere soldi per dar da mangiare al cavallo e cavoli non richiede molto spazio. Poi sono arrivate le automobili, poi sono arrivate automobili migliori, servizio pubblico eccetera. Perché ho fatto questo parallelo? Perché in Italia sappiamo che per chi non lo sa perché è troppo giovane il tatuaggio la gente ha riscoperto il tatuaggio tra la metà degli anni 90 e la fine degli anni 90 poi si è evoluto, si è sviluppato. Però ho la sensazione che molte persone stiano ancora cercando la bicicletta quando abbiamo i treni a levitazione. E' un po' come le automobili, le biciclette. Vabbè magari la bicicletta no, puoi tenere ancora la bicicletta e mettere nel garage un'automobile ma nel momento in cui scopri che puoi avere un'automobile migliore vuoi l'automobile migliore. vendi, tiri fuori la vecchia automobile e metti la nuova automobile in garage, una supercar. Con il tatuaggio è la stessa cosa, magari ti fai la biciclettina e poi scopri che potresti avere un'automobile e ti fai l'automobile. Poi però scopri che potresti avere una supercar però non puoi togliere l'automobile dal garage quando si parla di un tatuaggio. E' lì. E se pensi alla supercar, hai la supercar, poi la prendi e dopo due chilometri sei bloccato nel traffico. Quindi il tatuaggio è la stessa cosa. Ti fai questo tatuaggio che ti sembra una supercar senza pensare che magari il trasporto pubblico, perché il trasporto pubblico dove funziona bene, le città sono meno inquinate, c'è meno traffico, meno rumore, sono molto più vivibili, sono anche più belle da vivere. E la stessa cosa un bel tatuaggio. Se hai la supercar e hai tante supercar però sono bloccate nel traffico. Quindi quando pensi a un tatuaggio, pensa al futuro, pensa a come lo puoi sviluppare. Pensa a qualcosa che possa essere sviluppato, come il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico per essere sviluppato richiede tempo. E la stessa cosa un'opera d'arte sul tuo corpo. Non sto parlando di un bodysuit, è fantastica l'idea di un bellissimo corpo decorato, però anche semplicemente una manica. Pensa a qualcosa che possa essere sviluppato nel tempo. Non rimanere bloccato nel traffico.